Sono state probabilmente anche le piogge della scorsa settimana a peggiorare i dissesti della già provata via Aretusa. Nella parte finale della trafficata via che congiunge Piazza Europa via Salemi, il sollevamento di una basola ha provocato la formazione di una buca che, aggravata dalla velocità con cui molti automobilisti percorrono la strada, peraltro in discesa, risulta pericolosa. Anche l'asfalto bagnato, come confermato da chi ha segnalato il problema alla nostra redazione, provoca episodi di slittamento dei veicoli che potrebbero rivelarsi rischiosi anche per i pedoni. Glielo ho segnalato perché è un pericolo costante, una cosa che si ripete giorno dopo giorno, i pericoli delle motocicli sono costanti come anche là, quell'asfalto molto viscido, scivolano con una certa facilità e spesso li soccorriamo noi. Quindi chiedo che si possa prendere provvedimento affinché questo possa essere fatto con un asfalto più decente, non con le riparazioni così superficiali. Tutto qua. Che quando piove, specialmente, si rialzano queste cose qua, spesso interviene una ditta di autovetture che li trasporta così, che si rompono le coppe delle macchine, olio e così via. Tutto questo. Sarebbe da dire che è un pericolo costante affinché prendono provvedimenti a fare un asfalto più decente, non altro. Non si chiede tanto ma il comune deve intervenire, togliere i pericoli che spesso avvengono in queste condizioni. Uno è questa buca che voi avete rilevato ora, avete fatto il filmato. A prescindere questo vorremmo segnalare questa curva che sta qui sopra, proprio dove gira la strada di Manasco, la curva che mette su questa strada, che è molto pericolosa perché purtroppo siamo a Caltanissette, la gente non rispetta i limiti di velocità, esce, esce, uno si trova per fare una marcia indietro dopo essere parcheggiato, possibilmente se la trova addosso. e chi esce ha sempre torto, per cui non vedo un qualcosa che dovrebbero fare, tipo un staglia velocità, quei tossi segnalati, qualcosina, non so, poi non sta a me decidere e capire quale sarà il sistema migliore per poterlo mettere in atto.